Quante volte anche noi forse ci troviamo in queste situazioni, assumiamo gli stessi atteggiamenti, ci ergiamo cioè a giudici, a maestri, dettiamo leggi, tra virgolette, e poi noi per primi queste leggi non le osserviamo. I principi e le regole sembra quasi che valgano solo per chi è dall'altra parte, per chi in qualche modo è a noi sottoposto. La parola di Dio oggi ci dice che noi per primi invece dobbiamo abbracciare la logica del buon esempio, la logica evangelica che supera i criteri umani al punto da capovolgerli. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Sono le parole con cui si conclude il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. E del buon esempio del Vangelo, io credo, è di questa testimonianza, forse oggi più che mai il mondo ne ha urgente bisogno.